Vi presento Alchimia di Bosco, un cake al limone arricchito con una super pasta di frutta. Il valore aggiunto? Gusti e colori naturali della frutta e nessun retrogusto di cotto. Ingredienti. Purea di frutta, zuccheri, un addensante, normalmente pectina, un acidificante che può essere o succo di limone o acido cilico. Il metodo di preparazione, tutto dentro al cubo, azioniamo e la concentrazione avverrà per evaporazione. Eccoci qua, pronta la nostra gelatina di frutta. La lasciamo riposare tutta la notte in un ambiente non umido e domani sarà pronta per essere inzuccherata e tagliata.